Per diversi anni avrebbero proceduto ad effettuare stimolazioni non autorizzate nel cimitero di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, distruggendo o spostando in altri loculi le salme dei defunti per far posto a nuove sepolture. Con questa accusa i carabinieri hanno arrestato 16 persone nelle province di Reggio Calabria, Milano e Vicenza. Tra gli arrestati l'ex custode del cimitero, oggi in pensione, e tre imprenditori locali, amministratori di due imprese di onoranze funebri. Complessivamente sono 70 gli indagati. Nell'ambito dell'operazione è stata posta sotto sequestro un'area del cimitero. Si può solo immaginare lo sgomento e l'amarezza che avranno provato i parenti dei defunti, che una volta arrivati al cimitero non trovavano le salme dei propri cari, distrutte o spostate illecitamente. I 16 arrestati sono ritenuti a vario titolo coinvolti in operazioni illecite, celate dietro la regolare gestione del cimitero comunale, dovevano creato, secondo gli inquirenti, una gestione parallela del cimitero rispetto a quella del comune. L'ex custode e i tre imprenditori locali, sottoposti alla custodia cautelare e in carcere, sono ritenuti dagli inquirenti al vertice di un'associazione delinquere. Oltre 460 le salme di cui si sono perse le tracce, soppresse o distrutte dagli oderni indagati, che negli anni sono arrivati anche a impossessarsi dei tributi cimiteriali, regolarmente versati dai cittadini, ma mai arrivati alle casse del comune e dello Stato. Assieme a loro altri 12 arrestati, professionisti dipendenti pubblici, che con le loro condotte o missioni avrebbero consentito al sodalizio di acquisire la primazia in questo delicato settore dell'economia locale.